sono cresciuto i capelli sono Pierpaolo con i capelli Pierpaolo Pierpaolo mi sono un po' sessato della postazione di Pierpaolo perché Pierpaolo purtroppo ritarda quindi che bisogna fare? ma io non ho capito Mattù che cosa sei venuto a fare qua? purtroppo sono venuto hai risolto il problema del gracchiare del cortocircuito sono a buon punto perché è il pc è il pc al 99,9% perché ho provato col portatile e la cosa non la fa e quindi che cosa fate? e quindi vediamo ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando per voi ci stiamo lavorando è completamente senza senso però ci ho lavorato ci ho perso tempo allora Pierpaolo viene solo se viene battuto il record dell'Ape Train non c'è nessun altro modo altrimenti vi sorbite Jacopo quindi per questo dovresti fare il livello 100 sento dia clamoroso secondo me stiamo clippando probabilmente clippando alla grande no no va bene va bene può passare un pochettino ma i volumi c'è vogliamo Jacomo ma c'è che ti droghi mamma mia no io ci sono solo questi pochi secondi perché poi purtroppo non sono capace a interloquire come Pierpaolo che cosa hai fatto? non ho capito in che senso? cioè che cosa sei venuto a fare? cioè dov'è la tua mano in questa live? ti sto dando la mano perché sennò saresti da solo no ma al netto di riempire questo buco perché non puoi essere pagato per riempire un buco hai fatto qualcosa? no sarebbe cioè sarebbe sono il primo vado da Pucci ti dico che abbiamo un problema in azienda allora? e quindi che cosa hai fatto? ho avviato la live sì ma hai fatto delle scene particolari hai fatto dei contributi certo fammi vedere le scene no fa cagare adesso no fammele vedere tutte uno questo è quando arriva Vincenzo questo è Vincenzo in live questo è quando Vincenzo muore basta e scusami il gameplay? il gameplay eccolo è quello là no non lo vedo il gameplay è questo qua scusa questo qui che è quello della live però non è quello cioè per la conferenza quindi niente di particolare vabbè intanto quindi perché sei venuto ancora non si capisce intanto ho fatto quello che mi ha detto Pierpaolo io ho fatto ma perché scusami ma visto che fai grafica ma perché non rifai gli alert che li ho fatti io sette anni fa così ho detto aspetta che faccio una prova per vedere come funziona il webm grafica grafica no io sto a montaggio non è grafica grafica eri tu grafica eri tu e sei tu ma poi non ti puoi chiedere perché il tuo stipendio non aumenta perché il tuo posto traballa sempre ma io va benissimo no perché traballi perché di fronte a qualcuno che è propositivo e risolve problemi è uno che dice no questo io faccio e non fai niente di più io sono molto propositivo sei il primo che viene segato proprio cioè appena c'è un problema economico e mancano 5 euro sei il primo che sta a casa cioè ci sorbiremo ma scusami ma perché c'è questo caldo bestiale non lo so non lo so però ti puoi sempre spogliare no non mi posso spogliare perché ho una maglietta bianca con i capezzoli attenzione attenzione vediamo se riconoscete la maglietta questa felpa presa in america questo ce l'avevamo un grande del cinema perché felpa è chiaramente una maglietta che cazzo dice vabbè un t-shirt t-shirt ho capito ma la felpa è completamente un'altra roba non lo so sembra tipo Bruce Lee che fa il dj Bruce Lee che fa il dj questa è una t-shirt che aveva un supereroe in un film vediamo se ci arrivi io non ne ho idea è la maglietta di Tony Stark grandissimo chi è che l'ha detto chi l'ha detto pensa pensa te guarda se c'è una cosa sai perché mi metto solo magliette nere tendenzialmente ogni tanto io cedo con il bianco perché trovo molto triste che la gente esprima se stessa attraverso le immaginette sulle magliette è veramente agghiacciante è come mettere gli aforismi su facebook non lo so è come mettere gli aforismi su facebook ok è arrivato è arrivato è arrivato non è arrivato non è arrivato Pierre dai però che tristezza Alessio no è triste la gente che ha bisogno di quelle robe lì non è che allora non è che l'ho detta ho bisogno di questa maglietta invece sì chiaramente sì perché sei anche contento l'ho trovata in offerta mi piaceva oltretutto esprimi te stesso in offerta in saldo cioè tu esprimi la tua personalità in saldo ma se una cosa ti piace e paghi poco tu insegni non può piacere mister silvercrest dovresti guarda se tu disegnassi le tue magliette allora quel punto sì perché è espressione di te allora sì che produci le tue magliette esprimi te stesso e quello lo rispetto grandemente e come faresti tu una maglietta non lo so adesso con i giorni fai il cazzo che ti pare poi dopo di stampe online ma perché c'entra i giorni non è che ti stampa la maglietta dicevo proprio no ma di servizi online per stamparti la maglia ne trovi un miliardo vabbè lì prendi un'immagine questa maglietta qua ti sarà costata 20 euro 15 euro 18 dollari con 20 dollari non ti preoccupare che stampi tutte le magliette che vuoi te ne mandano due a casa stai parlando di niente di niente ah sì quella lì finta sì 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 perché finta oltretutto anche perché allora lui esprime se stesso tarocco e in saldo lui è falso in saldo perché se la faceva ad persona falso in saldo falso in saldo qua sarà molto molto lunga appunto allora la prima cosa la prima cosa è ordina da mangiare perché c'è un una cosa fondamentale che è dobbiamo far arrivare il cibo puntuale in modo da esaurire la fase di mangiata prima dello showcase non mi voglio mettere a parlare ho messo pure camifai camifai tutto impostato con questo bravissimo però Vincenzo non c'è il coso però Vincenzo già l'aveva incluso ieri se rientra con quello di ieri quello che gli ho passato io ieri perfetto già entra in automatico fantastico in automatico entra puoi anche non fare niente ma che cosa vede però la gente non gli hai messo niente per ora come browser metti il browser vai vai dimmi Alessio stavi dicendo? stavo dicendo che dobbiamo ordinare la pizza perché vorrei essere completamente a bocca libera quando faremo i primi 20 minuti di PlayStation VR 2 e il successo economico che hanno rilasciato i dati ha fatto più 15-20% rispetto alla PlayStation VR 1 parti mentre io faccio preparo tutto qui preparo tutto qui voglio che trasmetti il browser inizi a commentare quello che è venuto fuori ieri di PlayStation VR? sì più che PlayStation VR anche le notizie su vogliono fare la diversificazione due titoli maggiori ogni anno vogliono avere tutti i generi hai visto quella roba che è uscita ieri di PlayStation? vogliono 60% tra virgolette live service e 40% 50% IP vecchie e 50% IP nuove non lo so sono chiacchiere da investitori non serve a niente tutto il resto non so chiacchiere da investitori no guarda l'unica cosa sensata che ha trovato poi che si è cristallizzata in questo showcase è quello che quasi scoperto che ha detto con quella mail interna Jim Ryan che è fate bordello e allora lì si capisce si capisce come mai ma perché secondo te fate rumore secondo te quel fate rumore è perché è troppo che non si parla di ripari ah ok quindi dobbiamo correre ripari sì 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 assolutamente è una corsa quella era un sintomo di un disturbo di un disturbo perché c'è Geoff in copertina? perché sono tutta la guida a tutte le conferenze e gli eventi hai visto che ti ho messo la... ma non ho capito infatti perché è diversa? perché pesca quello sbagliato Jacopo non mi ha messo quello giusto pesca quello di lavoro e non quello corretto vai hai visto che ho messo la web che mi tira il cazzo? ma perché hai voluto fare quella cosa infatti? boh perché quando li ho giustapposti la... la... ah finiva in automatico sul cazzo lì a loro ho detto dai che gli faccio tirare il cazzo e poi Ouch perché l'hai messo così in basso e non qua? non sapevo dove metterlo effettivamente qua però perché sembra che parla il tuo pene il mio pene parla no più che altro è sapevo che c'era questo problema ma volevo a quel punto visto che mi ero sbattuto a far girare la tela attorno al cazzo che si capisse cioè che l'occhio cadesse lì che l'occhio cadesse lì ah ok quindi era quasi una freccia esatto l'unico elemento che avevo era quello lì intanto qua è uscita la notizia clamorosa io volevo commentare questo perché se avete visto il video l'hai visto il video in cui io e Vincenzo discutiamo per 40 minuti delle possibili uscite in due perre chi ha fatto la grafica di quella roba lì? Vincenzo mi faceva vomitare Vincenzo senti cosa stai dicendo adesso ma vomitare? credo sì se abbia fatto tutto l'ammontata un costume di notte con quella corniglia ha montato una sera stella notte allora bravo Vincenzo che fai uscire il prodotto ma degli standard di qualità che per me non vanno bene questo è che non ti piaceva il quadratino sia la scelta sia la scelta del background che creava delle geometrie sbagliate come se fosse sempre un coito interrotto col triangolo maggiore che stava dietro di lui si avvicinava verticale andamola a vedere perché è molto incomprensibile questa cosa che dici cioè il coito interrotto del triangolo gigante che è dietro di lui lo vedi il triangolo guardalo quale questo che sbarella sbarella tutto e la cosa peggiore per me è il il bordo semitrasparente direi a questo punto questo qui semitrasparente con l'emboss a mo' di quadro di quadro del 1600 è proprio una roba no però è trasparente in realtà sì però è trasparente però la trasparenza l'ha prodotta sui vostri pip e non sul background magari sul background cambiava qualcosa ma non credo più ok ok e quello che stavo dicendo se avete visto questo video io discutevo e poi una cosa una cosa si è sbattuto a fare però ha trovato un compromesso che secondo me comunque è sempre un po' stona? no visto che hai deciso di lavorare allora vai full e metti contributi invece è ah perché non tu riguardi la merda allora a quel punto ti rispondo poteva mettere quello che avevo registrato io esatto cioè perché cazzo cambia perché se muovi un triangolo dietro però ha fatto un po' di contributi è arrivato un taglio non c'ero neanche arrivato c'è un po' di contributi però c'è ha tagliato secco non ha creato sovrapposizioni e l'altra cosa che dicevo che nel video che voglio sentirti a te nel dibattito che facciamo con Vincenzo io ho detto non trascurerei l'ipotesi che Ubisoft sfrutti lo showcase perché loro storicamente Ubisoft ha sempre fatto questa formula dove arrivava l'ultimo giorno con la sua conferenza e si appoggiava o a Xbox o a Sony per fare il trailer del gioco più importante e poi al forward faceva i 20 minuti del gioco però l'annuncio con il CGI di questa roba qui è già uscito lo sono andato a vedere oltretutto ho capito perché non me lo ricordavo perché non si può guardare non si può cioè calcolando che per me per me il trailer per esempio di quello ambientato in Francia che non mi ricordo come cazzo si chiama Liberty no come si chiama Liberation no no Unity Unity Liberty cioè mi emoziono tutte le volte quando lo guardo ancora oggi con quella musica quando quello è vecchio esatto bellissimo molto molto triste quello lì questo qua però potrebbero fare 60 secondi di gameplay e poi approfondire il gameplay che finisce all'Ubisoft Forward e vi facciamo 15 minuti dici di no lo escluderesti? non escludo mai niente non sono come te che faccio no perché è uscita anche il fatto di essere uscita proprio ora la data di uscita mi dà l'idea proprio di un nuovo trailer con data di uscita ma scusami quando è l'Ubisoft fra un mese? 10 luglio giugno allora vedi i leak possono essere legati tranquillamente al forward non lo so può essere che la buttino lì però a questo punto c'è anche Ubisoft che è molto problematica perché anche tu sei socio e non decolla anzi tentenne meno 48% ogni tanto scende sì però io l'ho comprato al picco negativo io l'ho comprato al picco positivo e loro hanno dei problemi gravi prodotti su prodotti a rischio cancellazione rifacimento rimandati hanno probabilmente guarda Mirage non lo considero neanche uno di punta hanno un investimento importante su ma sì perché tanto vende sempre per quanto ed è costoso poco perché non è project red sì ma l'è la speranza che non facciano un altro Valhalla perché penso che no no questo è lineare esatto che l'Odys abbia abbia aspetta nessuno lo sa no l'hanno detto come il gameplay cioè che facciano una virata così prepotente è fra l'uno e il due no no è chiaramente quello è chiaramente quello non ci aspettiamo Valhalla Origins Odyssey esatto il gioco che in 15-16 ore l'hai finito me lo auguro per loro no no è detto quello ne hanno bisogno è detto e penso che il progetto di Assassin's Creed abbia ben altro da dover dire e ce l'hanno già detto sì hanno annunciato la road map e quindi cosa ti preoccupa hanno un gioco di Star Wars che sembra che sia esatto hanno soltanto due cose Avatar su cui io personalmente non credo però la gente magari può piacere calcolando che ha fatto due miliardi vuoi parlare del film esatto due miliardi è un film da due miliardi evidentemente per il mercato sì io accetto il risposto del mercato quindi ci potrebbe anche essere il gioco esatto però tendenzialmente sono scettico perché non so quanta parte di quei due miliardi effettivamente si traduca in videogiocatori però sicuramente è un'audience enorme potenzialmente enorme esatto e l'altro è Star Wars che però è un terno all'otto perché allo stato attuale non si sa nulla però sappiamo insomma il pedigree potrebbe essere interessante dopodiché hanno solo progetti castrati cancellati free to play che non fu morti free to play che sono tre anni che ne abbiamo ancora non uscito lì e quindi è una società che ha problemi e che non so fino a che punto abbia bisogno di mettere o magari proprio perché Mirage è un prodotto di seconda linea che però vende tanto probabilmente l'audience dello showcase potrebbe essere utile sì esatto è una pubblicità quasi grave 90 secondi fai riaccendere i pre-order mi dici che esce a ottobre e poi al Ubisoft Forward mi fai il full immersion esatto cioè secondo me ci potrebbe stare e qual è la data si ragazzi parlavano se non ricordo male proprio nell'intervista credo anche di averlo scritto nel pezzo si parla di una di un di un Assassin's Creed minore vi stiamo seguendo in chat non fate gli sterici minore metto mille virgolette non minore perché è più brutta è più triste è più corto è più fatto male no un Assassin's Creed che non ha la velleità dell'open world da 150 ore esatto né di rilanciare Ubisoft come grande produttore di videogioco deve solo vendere spendendo il meno possibile la loro idea è quella di anzi proporre leggete l'anteprima che avevo fatto a suo tempo proporre un Assassin's Creed vecchio stile con tanto focus allo stealth esatto la scelta di ambientazione il ritorno della lama celata che ti taglia ti mozza il dito cioè è una strizzatona ad occhi al fan a cui piacevano i vecchi Assassin's Creed a tutti quelli che nell'ultimo periodo storcevano il naso da Odyssey in poi e chiaramente che sono aumentati perché poi cioè sembrava promettere chissà che cosa poi hanno avuto non da Odyssey da Origins da Origins perché poi Odyssey hanno virato troppo in quella direzione hanno preso una batosta e hanno fatto Immortals con Valhalla hanno fatto questo gioco che sembrava sensato il più venduto di tutti hai visto quello ha fatto più di tutti però dispersivo come pochi c'è il rischio veramente che la gente non ti torni invece con il ritorno alle origini paradossalmente puoi recuperare sia quelli che si sono goduti Valhalla che recuperare raschiare il fondo di quelli che amavano come dici bene tu Fallout 00 lo intesi come un remake del primo senza fare il remake del primo è esattamente quello il target cioè il ritorno è il primissimo Assassin's Creed dell'origliare seduti sulla panchina della gestione della folla però ovviamente modernizzato perché il loro obiettivo è farlo molto più piccolo molto più lineare quindi per questo dico 15 20 25 ore di certo non è l'80 ore 100 ore di Origins Odyssey e Valhalla è completamente un'altra idea e secondo me potrebbe funzionare probabilmente è un assegno circolare esatto un po' troppo tardo a meno che non lo facciano del merda però che vuol dire scusami fa salta di continuo sistemate di che parli che cos'è che salta l'audio non credo dovrebbe funzionare tutto dicevi no che è un assegno circolare a meno che non gli esca la merda però però su Assassin's Creed possiamo dare per scontato che possono prendere delle decisioni di gameplay e di dimensione dopodiché come si chiama il know-how c'è l'anno alla grandissima sa dove andare assolutamente tra l'altro ricordiamo sempre che c'è sempre anche questa grande incertezza del remake di Splinter Cell che comunque sta rannunciato che stanno lavorando prima o poi daranno Immortals Phoenix Rising 2 titolo completamente uscito in sordina un vero e proprio stripperizzi ma che ha venduto tantissimo Immortals dagli stessi creatori proprio di Odyssey e Assassin's Creed più criticato più estremizzato Immortals 2 ci starebbe la grande cioè quello pure per essere un bel annuncio invece a proposito di remake che scusami commentiamo questa che ne avevi parlato però di remake mi collego poi parliamo di quello di remake che non funziona e che non trovano la quadra Splinter Cell ha accennato il genere non si è più visto niente perché ci sono questo genere di remake pensa penso a Electronic Arts hai sentito le ultime news su Quotor il remake che c'era Shredder che cazzo è mai esatto che è vero sì ma mi spieghi dove un conto è cazzo fare dei bei giochi un conto è prendere in gioco vecchio eh ma quello hanno sbagliato tutto perché ricordati che non lo fa Electronic Arts lo fanno quelli scappati di casa di Aspyr ho capito però che da quando fu annunciato tutti dissero ma perché Aspyr che fino a ieri faceva le conversioni per Mac dei giochi è tutto sbagliato ho capito però è tutto sbagliato dal primo da un trailer di annuncio però stiamo parlando di mera forza bruta cioè ti devi mettere lì aggiornare le texture ammorbidire certe spigolature dei gameplay secondo me non lo puoi fare quella roba lì ma anche semplicemente riproporlo in HD cioè addirittura lo cancelli porca puttana secondo me quella è una roba che non arriverà mai ma perché chiude prima Aspyr e comunque Splinter Cell perché annunci il remake e non fai come guarda un esempio virtuoso è Death Space Remake l'hai annunciato hai fatto la roadmap cos'è durata l'annetto la roadmap forse per meno sei mesi esatto sei mesi con sistematici con sistematici update cioè se lo fanno che era un team così sì era un team microscopico di visceral sotto visceral esatto se lo fanno loro capisco che a modernare è diverso però hanno l'avevano portato a un livello di di sofisticazione probabilmente il Death Space Remake di cui Cotor la fanbase nemmeno ne ha grande necessità è molto complesso perché tanto è un cazzo di GDR cioè non non lo so l'audience avete letto di Embrace per prima dopo leggiamo di Embrace allora prima di tutto questo diceva prima Alessio allora c'è una cosa siccome vedi nel grafico esatto l'impressione è che l'utenza playstation sia sempre con una pallottola nel cervello e abbia un problema comprano quasi simile aspetta però per scoprire la grande verità ti si viene il grafico però la tendenza la tendenza sembra più sensata che nel senso a parte lo zoccolo duro delle persone con le pallottole nel cervello sembra che gli altri non ci vadano a ricomprarlo perché sappiamo che l'hanno fermata esattamente prima che si tocca prima che c'è l'incrocio che quella sale no chiaramente la blu scura è playstation vr 2 la celeste è playstation vr come vedete è vero che è partito quando è la data di uscita quando è la data di uscita di che di playstation vr 2 mi sembra febbraio l'11 febbraio era uscito perché qui sono 6 settimane cioè non avevano i dati aggiornati non avevano la week 7 la week 8 la week 9 secondo me fino alla 12 possono arrivare 22 febbraio oggi stiamo al 22 maggio quindi hanno fino a week 12 esatto chiaramente l'incrocio già la week 7 secondo me già si stanno toccando la week 8 è che chiaramente questo è guardate è iniziato e ha venduto molto di più al lancio questa è proprio rassicurazione agli investitori esatto poi è chiaro che c'è un'importante parabola nel senso che vediamo il blu che fa proprio una curva rapida il celeste che paradossalmente io credo addirittura la playstation vr 1 a un certo punto abbia iniziato anche a vendere di più si è anche impennato secondo me si è impennato ma infatti bisognerebbe vedere se secondo te rischiano di metterla in culo a chi a chi l'ha comprata in day one e vedremo un ribasso di prezzo molto sicuro per natale al 100% allora secondo me per natale non è vicino per me prima di natale è molto vicino per natale per natale che intendi break friday novembre o giuglio back to school settembre back to school sarebbe sarebbe il sintomo di un problema però c'è di un grande problema la certificazione del grande problema ma secondo me lo sai quando certifichiamo il problema stasera nel senso stasera quando mi hai detto che lo showcase parlerà di playstation vr 2 l'hanno detto loro non l'ho detto loro quando dicono dal tuo punto di vista io non credo che ci sia nulla di grosso nulla allora ci abbiamo un problema aspetta ci abbiamo un problema dipende cosa intendi per grosso per grosso aspetta il nuovo di astro del team asobi quindi il nuovo astro bot per playstation vr 2 esclusivo un ipi grossa di studi sony che possa essere una roba di noty dog una roba di santa monica una roba di di chiunque di sucker punch che fa una roba grossa alix ufficiale che arriva cioè quello dico se mi fanno non c'è indie non lo so il loro tra virgolette cioè mi aspetto dei giochi che magari ok si usano un ip cioè per me l'horizon tra virgolette che era il loro specchio no non ci sarà oggi non ci sarà oggi però quello per me certifica un problema cioè dopo quattro dopo tre mesi che è uscito e mi devi far vedere me lo devi far arriva a natale e non mi fai vedere quattro robe grosse da qua a natale cioè secondo me è un problema è che per sempre sai cosa è che per me la roba grossa in playstation vr è sempre difficile perché il paradosso è che alix sarebbe figo sarebbe figo però boh secondo te vedi questo questo steam playstation ma se non ne approfitta sony ma vuoi ma che cazzo lo pagano cioè non è che vanno da game in world game in world oh ma ho regali mi auguro ci sia un accordo esclusiva console produce ancora valve giochi no hardware no hardware si fa l'index non lo so se magari anche se lo vuole vendere l'index con alix è già finito quel tempo no non vendere l'index con alix ma è che se gli tiri via alix all'index cosa rimane già oggi non rimane niente però c'è alix si vabbè ma chi cazzo è che oggi nel 2023 compra l'index che costa tipo 1500 euro per alix no è che magari ti vuoi prendere un visore per pc e a quel punto ti puoi fare l'index invece che il quest o il difficile proprio o quell'altro il picco 4 difficile proprio non lo so allora secondo me oggi a mezzanotte già avremo un'idea se a settembre se al back to school tagliano il prezzo di playstation vr 2 perché se secondo me oggi vediamo il midley con 8 titoli beat saber 20 minuti 8 titoli purtroppo c'è quello lì è il more to come ghostbusters che poi abbiamo già visto crossfire sierra squad si è già visto quello magari beat saber ma non è già uscito resident evil 4 no ancora no è uscito per pc però quello vecchio non ah perché questo è l'adattamento di quello che giochiamo noi dovrebbe essere come hanno fatto con village credo credo se non mi sbaglio se non mi sbaglio però hanno scritto resident evil 4 non lo so forse è quello vecchio fatto in vr ma è uscito solo su quest quello se non ricordo male quello è triste synapse non me lo ricordo foglands non me lo ricordo grinell l'abbiamo visto ma grinell vr e questi però sono i more to come cioè si vabbè ma more to come mi auguro non che stasera vediamo se stasera mi fanno i reel di beat saber crossfire sierra squad grinell foglands vr cioè se questa è la roba che vediamo oggi nello showcase di best show vr 2 a settembre al 100% c'è lo sconto però ti rispondo questo è tra virgolette non è interno nel senso che è pubblica questa roba ah no è il vecchio in versione VR quello che è uscito su quest esatto quindi questa roba qui era per gli investitori una roba un resoconto finanziario ora tu devi rassicurare gli investitori ah i giochi che devono uscire per playstation VR appunto sì però non metti magari una cosa e 5 titoli non annunciati cioè capisci cioè comunque così non rassicuri nessuno e questo è il more to come che hanno detto a chi gli dà i soldi cazzo non lo so non lo so no mi auguro per loro che non sia così però cioè vabbè non so come dicono in chat non mettono la roba del showcase in questo resonto grazie per il fatto che vi fa cagare la camicia non me ne frega un cazzo che cazzo è uscito allora voglio prima il più importante ragazzi vi spiego prima vi spiego il grandito poi vi faccio lasciare a commentare Alessio cosa succede oggi perché siete qui oggi abbiamo un po' di cortolite un po' di gameplay un po' di scena e poi lo showcase andremo live andremo avanti tutta la sera quindi da adesso fino a luna fino a che c'è bisogno a mezzanotte 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 dipende quanto durerà lo showcase alle 21 ci raggiungerà anche Vincenzo lo showcase lo seguiremo io Alessio e Vincenzo prima abbiamo grandi ospiti che ci diranno la loro dei grandissimi ospiti non ci sarà Francesco Serino che sta in vacanza quindi saremo così cioè neanche lo richiamiamo per sapere cosa si aspetta secondo me non lo vedrà mai ah lo chiamo per le aspettative lo possiamo chiamare per dirgli ti chiamiamo mandagli un messaggio per prepararlo va bene lo preparo ok intanto prendo anche da mangiare no è la cosa più importante è mangiare io non voglio parlare mentre si mangia poi scusami voglio dirlo pubblicamente questa cosa io ti ho mandato un messaggio che non mi hai risposto ti ho risposto quando mi hai risposto puoi anche farlo sentire puoi farlo anche sentire live allora però devo fare l'antefatto però allora quando abbiamo scelto di fare il community event vi ricordo ragazzi dopo domani evento community a Roma ci sono ancora in realtà sono andati meglio i biglietti quanto mi immaginassi cioè sono rimpernati abbiamo sfondato il muro degli 80 mi sembra 85 ancora no ci sono ancora i biglietti per Roma saremo c'è il link in chat ragazzi molto buoni intanto grazie per il link in chat e questo il 26 dopo domani venerdì sarà una serata fighissima ci saranno un sacco di gente un sacco di ospiti hai super capezzoli Alessio allora due mesi fa quando mi ho iniziato a parlare gli ho detto Ale ti fermi o non ti fermi a Roma a dormire perché in caso ti ospito da me no questa seconda parte posso recuperare il messaggio non c'era c'era ti fermi o non ti fermi sei veramente bugiardo ti fermi o non ti fermi ti fermi o non ti fermi comunque vabbè gli ho detto ti fermi ti fermi a dormire da me stamattina ho mandato una mail alla segretaria la nostra segretaria qua di redazione e gli ha detto Valè si chiama Valeria Valeria mi prendi un biglietto mi trovi un alloggio in un hotel perché venerdì sera non mi voglio mettere in macchina che altrimenti muoio perché ho visto com'è andata a Milano se dovessi guidare mi prendono la patente e la bruciano scelta assolutamente sensata ci sono rimasto molto male sì e ti ho risposto ok sentiamo la risposta falsa ragioni fondamentali uno non ti voglio rompere il cazzo e due l'ultima volta mi hai lasciato fuori di casa quindi non voglio che si ripeta perché ragazzi l'ultima volta che avevamo la festa l'ho fatto andare l'ho fatto andare a casa un po' prima no comment perché io arrivavo un quarto d'ora dopo dopo un quarto d'ora sono arrivato sotto casa ragazzi sono arrivato sotto casa ho telefonato 30 volte io sono rispettoso della tua privacy ho dovuto prendere la macchina e tornare a casa io sono rispettoso della tua privacy ho dovuto guidare con un occhio chiuso in autostrada e ho rischiato di uccidere le creature che andavano a scuola va bene andiamo a vedere quell'altro mentre ordino da mangiare perché non vieni a dormire da me tieni vai su in Bracer mentre prendo da mangiare però c'è una news che tu hai letto? no hanno detto loro in Bracer metto anche un po' di musica perché non so perché non c'è una musica io non riesco a capire guarda tu riusciresti a capire qual è l'artwork che non ho fatto io aspetta lo guardo subito vabbè no no perché no perché non l'hai fatti nessuno te? no no li ho fatti tutti tranne uno e quello che vedo mi dà sempre fastidio non capisco perché allora cerchiamo Embracer puoi fare controlla F Embracer? Bungie allora Playstation Bungie ha creato un sistema di revisione per giudicare i 12 giochi live service di Sony Bungie ha creato un sistema di revisione per giudicare i 12 giochi live service di Sony qui il know-how di Bungie finalmente emerge si capisce perché l'hanno comprato per lavorare sui live service e dirgli come funziona si capiva si capiva esatto ha anche senso sì sì fai in dei conti Destiny 2 sta andando benissimo come live service non ha senso solo rompere il cazzo in quel modo sull'acquisizione di Activision spegni tutto però l'hai lasciato accesso indipendentemente indipendentemente dalle ragioni di possibile monopolio e non sono quelli gli interessi in gioco da parte di Sony tutto il resto Sony come cazzo gli fai a dire che ha sbagliato qualcosa starà vince fai migliore allora ti va bene preferisci da il ghiottone pizzeria ristorante 5.1 pizzeria dell'orologio però che c'ha i panini in copertina 5.6 rimpizzati 5.7 rosticceria i mori pizza san cardeto che ha un bel 5.2 il nuovo pizzerone è uno che a Scugnizzo sarebbe buono però non ci arriva non è su Just Eat secondo me Scugnizzo ristorante ucraino Kozak è in delivery però se vuoi la napoletana è buona quella di Scugnizzo se non c'è il Prime Prime Day di Amazon c'è? si da qua? e quindi? da un mese e quindi però non riesco a capire che c'è l'invita è importante quella cosa lì si ma io non uso Deliveroo perché io però ti ha detto sbagli io vivo nella capitale d'Italia non c'ho bisogno di usare Deliveroo che è l'unico che si paga tutta la vita c'è tutto su Just Eat e non paghi la spedizione ma a Roma non si paga la consegna si si Deliveroo paghi la consegna anche a Roma quindi che devo cercare su Deliveroo? come fai a collegare però il tuo account? Amazon Prime come lo collego? una cosa complessissima Amazon Prime ah Deliveroo Plus incluso con Amazon Prime devi mandare devi mandare una raccomandata una raccomandata con cosa? iscriviti o accedi a Deliveroo ma sei sicuro di questa cosa Jack? sicurissimo ma sempre gratis figli che hai il Prime? lo scugnizzo però una cosa vuoi vuoi la pizza dello scugnizzo? dipende perché se mi arriva qua Napoletana fredda fa schifo stavo dicendo perché una Deliveroo in Napoletana non è proprio il top tu l'hai presa a Deliveroo qua Napoletana? eh no perché la Napoletana dopo fa schifo diventa un pezzo cioè senza cambiare la cosa la scaldi però cosa ci mettiamo a scaldare la pizza cioè allora intanto aspetta che tanto accedo a Deliveroo intanto tu continui a commentare non so se volete dovevo cercare Embracer ma non c'è Paradox Interactive ha soppresso quasi il 50% dei suoi giochi prima del lancio sapevamo già che c'era un problema bravi loro se riescono a capire prima di buttare via i soldi quando un gioco ha senso proseguire oppure no nello sviluppo Starfield fan chiedono a Bethesda di commemorare un giocatore morto ah lo sai cosa mi interessa hai visto quel rumor incredibile che è la notizia più letta di multiplayer guarda ancora la prima più letta guarda ti prego commenta questa roba qui che sono giorni che continui a essere la notizia più letta allora la cosa inquietante la cosa più inquietante prima racconta la notizia Starfield molti siti avrebbero già deciso di dargli voti bassi per minare Xbox secondo Nick Baker Nick Baker che è un redattore di Xbox Era non so se è un responsabile editoriale o roba del genere ne so esattamente Xbox Era non mi sembra poco di parte no aspetta che sia di parte ok ma è tipo faccessi cioè una roba grossa no non credo sia una roba grossa Xbox Era la cosa più inquietante ragazzi cioè lui praticamente dice che per qualche ragione incomprensibile che sa solo lui esatto le testate editoriali in giro per il mondo si sono accordate tra virgolette anche implicitamente per affossare Starfield in modo da continuare questa questa WRI a Microsoft che è nata con Redfall perché insomma si sa che è un capolavoro ma ci siamo tutti messi d'accordo la cosa più assurda è che se fosse stato un influencer del cazzo una persona a caso fosse un talent è l'ennesima stronzata che dice un talent sei un redattore cioè sai perfettamente che quello che dici non è nemmeno realizzabile nel mondo reale ed è veramente inquietante che ci sia gente che esprima questa cosa qua poi oltretutto a video da quello da quello che ricordo solo audio credo sia controlla secondo me solo audio no no mamma mia quanto l'hanno loro lavorano chiedi ah Shipschnell Nick è lui quello in alto a destra ok sembra Maurizio Merluzzo Merluzzo è vero sembra un po' Merluzzo magari Merluzzo che lo imita Merluzzo magro ok intanto mi danno il benvenuto su Delivery Plus intanto ho fatto quindi sei in questo momento sono plus no sei per la napoletana con il rischio che ci arriva il piscio cioè che la prendi è commosa collosa però come faccio a capire se sono sei plus sei plus no ma come faccio a capirlo appena vai a fare l'ordine vedi quanto sono le spedizioni le troverai a zero allora intanto scusami ci propongono di prendere una pokeball io ho già fatto il mio gesto in merito alle pokeball che è la cosa che mi fa più cagare nell'umanità è la pokeball non so che cosa sia la pokeball è un tuo modo di scherzare b-o-w-l i poke ah ball pensavo alla pokeball no quella che lanci guarda che c'è mall no no come lo dici no poke no b-o-w-w-l a me fa vomitare magari accenno leggermente di più sull'u-w bowl ah ok scusami invece che bowl no non è che mi fa vomitare lo trovo un pasto equilibrato leggero metti le tue proteine le tue verdurine c'è il riso che sempre accompagna senza ingrassare particolarmente è una cosa per cui spendo soldi no tendenzialmente no mi faccio il cazzo di riso in bianco io e ci metto sopra il cazzo che mi pare che è interessante anche questo cioè quando quando compro la mert quando compro sta roba voglio imporcare guardi se c'è ai chef no no non ci smerliamo no no allora pizza quindi devo cercare scugnizzi scugnizzo lo scugnizzo che facciamo? non lo so dimmelo tu cioè io sono un po' scettico della napoletana con in delivery sono un po' scettico preferisco una pizza plette de merda perché quella che fa più cagare è comunque commestibile dal mio punto di vista delle pizze tra virgolette alla romana dimmi te dimmi te se vogliamo fare una cosa diversa e prenderci la napoletana sapendo che ci arriva un pezzo di gomma fammo così se vuoi pia la romana che ti dico? decidi tu decidi tu io prenderei questa così ne possiamo parlare male va bene sei d'accordo? sì perché oltretutto io però ci vado lo scugnizzo secondo me è una pizza dignitosa per te una napoletana fatta così è dignitosissima ma quanto sta lontano da qua la roba da 20 minuti? via bramante cioè è al centro di Termi? no è fuori ma dalla parte della standa al lato ci stava la coppia? è sopra no la coppia è dall'altra parte da Pucci no dove c'è quel palazzo di vetro? sì esatto mi si è portato una volta a mangiare? un posto orribile esatto perché è sopra un supermercato mi si è portato? esatto sì diciamo che in linea d'aria non è nemmeno lontanissimo no in linea d'aria no cioè poi volendo ci vogliono veramente sette minuti per arrivare sei minuti un motorino un attimo eh vabbè proviamo? vai tanto io prendo tu il calzone di Donna Titina mi hai chiesto tu Titina no Donna Titina vuole la diavola come me però vediamo se ci sta ci sta ci sta capricciosa quattro stagioni vegetariana romolo pizza fritta antica napoli stagionale mozzarella patate lessse e salsiccia non ti va? molto buona però leggera viustra e patatina salami piccante ah vai salami piccante faccio anche spendere poco vuoi con degli extra? doppia mozzarella pomodorini prosciutto crudo salsiccia o ricotta rucola prosciutto cotto alici scale di grana viustra e salami piccante o provola? no ma vorrei la bufala con mozzarella di bufala? sì perché ti piace di più i fior di latte te? sì assolutamente per la pizza sì perché? perché perde meno liquido vai allora cosa? tirala via perché se arriva anche pisciata ancora di più già è napoletana cioè veramente in mezzo ci metto una scadella agli sci e salami ti caghi sotto al 100% quindi vado? questa è la tua scelta perché tu non la prendi anche tu hai detto che la prendevi anche tu perché sono un coglione semplicemente mi prendo viustra e patatine? no sai cosa possiamo smezzare quella prendiamone un'altra dai che è leggera almeno mozzarella e patate le stesse salsiccia? un po' pesantina però cioè basta che non prendi da quattro formaggi ok? un prosciutto crudo? scaglie e grana no? ti dà fastidio e grana? esatto basta che non prendi grano un attimo eh lei giglie le sto leggendo pescatore evite lei reginella mozzarella e bufale pomodorini no scarpa a riello con le melanzane fritte no capricciosa no quattro stagioni no calzone no la vegetariana no pizza fritta non mi basta romolo col crudo mozzarella e salsiccia e broccoletti ma non mi vanno i broccoletti poi ormai fa troppo caldo e i broccoletti fanno cagare patate le stesse salsiccia ci possiamo fare un pensiero una provola affumicata e pomodorini o non ti piace la provola affumicata? a questo punto te la mangi no voglio dividere perché voglio anch'io quella là solo Wustel? no fa schifo questa pomodoro mozzarella olive origano e alici? va bene eh? un po' più fresca un po' più estiva o una semplice napoli pomodoro mozzarella e alici? cosa cambia rispetto a quell'altra? che l'altra c'ha le olive l'origano è un po' più da marinare invece la Napoli è la margherita con le alici ti piace? sì io adoro la Napoli va bene perfetto ora prendo la Napoli ci smizziamo poi prendi tanta birra? assolutamente prendiamo dei fritti? un fritto misto? quelli che poi mi nascondi sotto la la poco se dici ma non mi sono i fritti misti sono finiti come quella scena lì o no? prendo un fritto misto? comunque è un posto da Napoli questo qua speriamo che sappiano friggiare anche se anche lì arriverà tutto umido capito ma se devi far cagare facciamo un fritto misto che ci sta e la birra e dolcino vuoi un babà farcito panna e crema? dolcino dolcino bevande coca cola? c'hanno solo la Peroni come birra 66 prendi ne 4? no non ha senso 4 dici 4 offre l'azienda va bene però ce le giochiamo per la nostra volta sì però quanto ti costa ognuna? 6 euro 4,80 esatto quanto costerà 1,99 secondo me da 66 ma la Peroni anche 1,50 euro secondo me da 66 non lo so non lo so vai in orificeria a comprare la Peroni secondo me 1,50 1,99 potrebbe costare la Peroni non so quanto sta al supermercato ti dà fastidio troppo ricarico prendo 3 non lo so perché poi magari mi pento se non c'è più da bere però calcola che ho un Heineken di riserva sì e vabbè allora ne metto 2 2 da 66 no 3 va bene 3 va bene ok 3 va bene ok vado? perfetto e però no aspetta gli devi dare l'orario mi raccomando ok cambio a che ora li devo fa venire? alle 8? va bene 8,50 no e farei tra le 8 e le 8,50 più che tra le 8,50 e le 9 8,50 ok confermiamo vado a check out no no cazzo aspetta non ci sono mancia per il rider però le metto quanto gli do 1 euro o 2 euro? gli do un 5% 2 euro? non lo so io non do mai mancia e spagli si dà sempre mancia alla gente per fare un bel lavoro ah no ci devo fare le posate no? no le posate ce l'abbiamo la taglia no? devi mostrare un documento di identità a chi? l'ordine ma perché c'è la birra ma la faccia veramente proprio ok adesso io non da mancia neanche se si fa schifo no modifica col cazzo che pago la mia carta no puoi però puoi chiamargli di tagliarle? le metto come note ci sono le note? si in che senso ci sono le note? certo ci sono le note non ho visto nessun campo note si 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 commenti intanto? no sono molto più interessato qua perché questo mi cambia l'umore della serata Alessio ho seguito i tuoi consigli finanziari ho comprato azioni Ubisoft solo oggi meno 5% ragazzi aspettate cioè Ubisoft è quindi stai confermando i tuoi consigli finanziari? stai confermando pubblicamente? no no dico che la io parlo delle performance di Ubisoft indipendentemente le scelte che hai fatto io non ho mai detto a nessuno di comprare azioni Ubisoft io personalmente le ho prese ma la fioritura di Ubisoft non è quella anzi speriamo che vada ancora un po' più giù perché arrivi qualcuno a comprarsela perché perché secondo me Ubisoft davanti ha ancora due cappelle sì 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 due cappelle due cappelle può fare sì 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 assolutamente poi magari aspetta i due matti magari se lo ricomprano loro diciamo che è l'anno prossimo con l'assassistate grosso se l'anno prossimo va male viene comprato perché non perché non ha senso sì sì no school and bones non è neanche la cappella anche là visto c'era voce incredibile che lo stiano per cancellare anche quello che però ricordiamo sempre che c'era sempre che teoricamente non potrebbero cioè probabilmente dovranno restituire ho cambiato la carta di credito e non l'ho messa ho pagato con la mia porca troia ah no vedi vedi per fortuna mi ha chiesto l'autenticazione ma io non gliela darò così non va avanti con la mia mamma mia come ci godo come ci godo beyond good and evil Pierpaolo potrebbe essere sì quello è risolutivo quello è risolutivo è incredibile quanto pattume Ubisoft abbia accumulato tra cancellazioni coiti interrotti adesso cosa succede il fatto che mi ha chiesto la conferma di pagamento ma io non ho pagato però in attesa non ti si è aperto un pop up di qualche tipo no mi ha chiesto la conferma hai messo la nota non c'è la nota su Deliveroo differenza di Just Eat Just Eat vuoi mettere le note su Deliveroo no l'ennesimo motivo per cui non bisognerebbe utilizzare Deliveroo ordine perso dite quando è così magari allo scugnizzo non sanno leggere quindi loro hanno tirato via l'opzione 9 può essere può essere perché ti rifò il telefono perché li chiamo no ma non è partito l'ordine appena mi dai l'ok eh ma non c'è ancora l'ordine allora allora Deliveroo si fa veramente cagare no non ho pagato con la mia carta perché mi ha chiesto il codice e l'ho bloccato stamattina ho trovato le patatine Tyrell di cui parlavi ieri è a 2,9 km ma quanto sono care tantissimo ragazzi la roba buona costa cioè è un grande cosa le piramoni la Tyrell le patatine Tyrell ah ho capito le patatine buone costano ragazzi ragazzi quello che pagate sempre è marketing le Tyrell il grande marketing delle Tyrell no hanno costruito su un racconto di qualità ma è su una qualità non sulla ma non fa pensare però il messaggio che è solo marketing ci sono anche robe fatte meglio rispetto ad altre ragazzi stiamo parlando di roba scozzese ma parla inglese penso irlandese irlandesi come sei irlandese comunque quel posto lì gente gente che effettivamente sulla frittura della patata ci ha costruito la dieta ci ha costruito la dieta ma potete capire da soli la qualità sulle patatine in busta ma dai amico mio evidentemente c'è una differenza di gusto però di qualità non ne parlerei c'è anche differenza di qualità che è di gusto non è perché un peperoncino è una panna acida no non di gusto c'è la qualità del taglio parliamo della patatina della crocantezza esatto della quantità di sale però è una commodity la patatina secondo te il mark up che ci mette Tirel rispetto al non è certo di marketing l'azienda rispetto in Italia non fa neanche marketing no costa di più costa di più perché il mercato è piccolissimo perché c'è l'importazione ma non perché fanno marketing cioè fanno marketing San Carlo con le 1936 fa marketing e di base però la patatina è commodity ragazzi c'è una cazzo o Amica Chips tagliata ma Amica Chips per me è il rapporto qualità prezzo ideale il pacchetto trasparente le patate sono più o meno le stesse cambia l'olio delle quantità ma anche la bistecca è più o meno la stessa cambia come la cucini cioè è ovvio le patate beh però le patate sono sempre le stesse e cambia moltissimo come le cucini no ci sono qualità di patate diverse sì ma anche come la cucini cioè anche la pasta è sempre la stessa no rimane così quindi che cosa fai basta bloccalo eh che faccio come faccio a bloccarlo non posso bloccarlo mi dice c'ho una conferma ordine in corso posso fancazzo mi rimane qua sotto chiudi l'app che è che sembrano tipo riavvia windows eh però è quella roba lì ma no ma chiaramente rimarrà appeso cioè un acquisto che ho fatto rimane appeso magari aprirò Deliveroo vedrà che stavo facendo un acquisto è ovvio mica è scemo vede che sto facendo un acquisto è cambiato colore però è diventato viola scusa chiamali e digli che ho fatto un ordine non è andato a buon fine perché non ha preso la carta di credito che devo fare allora allora intanto mentre Alessio chiama noi andiamo avanti e che ne vado a musica buonasera buonasera abbiamo appena fatto un ordine tramite Deliveroo a nome Pierpaolo Greco però è appeso alla fase di pagamento ci rimane in attesa di conferma del pagamento non riusciamo a capire se è passato l'ordine oppure no non lo so sinceramente ho capito qualcuno potete controllare tramite terminale non lo so c'è un numero perché il nome sì c'è il numero 8616 8616 8616 abbiamo il portantino e l'esperienza è l'esperienza allora tramite Deliveroo sì allora noi abbiamo due ordine per adesso 3,9,5,2 5,7,2,3 quindi non avete questo 8616 8616 8616 no ok allora lo rifaccio proviamo a bloccare e rifarlo e per richiedere il fatto che la pizza sia tagliata tramite l'applicazione non è possibile lasciare note vi devo richiamare o lo fate di default allora non si può scrivere una nota no pare di no nell'applicazione Deliveroo non sembra essere possibile mettere note ok sì richiamate e lasciate il numero ok la richiamo dopo con il numero appena ci conferma il pagamento salve allora intanto chiaramente non è napoletana direi così dalla voce chiaramente non è umana no più che altro è che come fai a bloccarlo non posso fare un nuovo ordine e come fai a bloccarlo ma che cazzo ne so come fai a bloccarlo boh mi dà addirittura arrivo stimato aiuto ma sei sicuro che quello là sia il numero d'ordine aiuto chiama Deliveroo annulla ordine non ti abbiamo cancella l'ordine cancella l'ordine ok fatto perfetto ordina di nuovo che ne dici ci siamo così ordina di nuovo non te l'ha già messo nel carrello no ordina di nuovo senza carrello non c'è il carrello allora ricominciamo avevamo preso una salame piccante sta a 2-9 km non potete prendere la 500 di Alessio e arrivarsi no perché è la 500 di Alessio adesso ho una X di come si chiama non lo so il nastro adesivo quello di carta un nome nastro carta quello che strappi a mano sì no non il nastro carta lo scotch di carta io lo chiamo non lo so perché c'è la X così perché quello dietro l'ho perso già da tempo ma davanti mi è saltato via anche davanti il simbolo della Fiat è proprio tutto a pezzi è tutto a pezzi c'è quella cosa lì che quando la guardo che non è più metallizzata che schifo no che altro comincia ad essere un problema ho aperto sono andato a fare benzina quando tornavo da Vignola l'altro giorno mi sono fermato per fare il gas ho detto aspetta che metto un po' di acqua nei tergi cristalli ho aperto c'era il serbatoio del liquido refrigerante che bolliva che senso come fai a vedere che bolle appunto c'era una roba infatti ho chiamato e ho detto secondo lei è normale no franco franco viene a vedere no aspetta spiega bene spiega bene cioè tu hai aperto il cofano e vedevi il radiatore che bolliva il serbatoio cioè il serbatoio quello laterale esatto quello refrigerante che c'ha il refrigerante rosso o blu secondo quello che hai utilizzato e tu dentro vedevi perché era trasparente no è semitrasparente lo devi vedere dov'è il livello cioè vedevamo le bolle che si arrivano bolle enormi che fanno blu 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 e sono arrivati e hanno detto guarda che non è normale magari fermati un pochino però poi ho acceso la macchina e diceva tutto a posto circuito chiuso quindi fai tipo la camera di vapore del cellulare però le bolle non ci dovrebbero non si dovrebbero generare il circuito chiuso e il livello con anche queste bolle era molto molto alto il livello di si vede che si era espanso molto però però qual è il problema infatti finché funziona finché funziona non è un problema cioè hai fatto l'ordine sì mi continua a dire cosa hai fatto cosa hai messo hai recuperato ripetimi l'ordine è ormai troppo tardi hai cambiato la carta di identità lì sì ho cambiato la carta di credito ho messo alle 20 ordina per la consenna ok abbiamo fatto non vorrei spaventare Alessio ma io con gli stessi sintomi ho scoperto che mi era esplosa la testa del motore esagerato esplode la testa del motore secondo me non ti muovi se si crea o robe del genere qui però non eccolo è andato è andato 73-54 richiamiamo la tipa stanno già preparando l'ordine quindi sbrigati perché c'è già la pentola la padella che sta a spadella a che ore sono adesso? sono le 18.51 secondo te lo capiscono che deve arrivare tra le 20.05.20.30 certo arrivo stimato questo è il numero d'ordine allora sì c'è una padella che fa vedere la pizza guardate grazie buonasera sono il ragazzo di prima buonasera di nuovo ragazzo tutte le pizza si grazie va bene salve grazie mille buonasera ragazzo non è proprio di Napoli ti ho detto che non era del vomero di fuori grotta è del vomelo no tu dici cinese secondo me dell'est non di quell'est dell'est Europa secondo me tipo albanese romana invece a me su questa telefonata qua proprio mi sembrava proprio di parlare con una dei massaggi per me più Romania Albania secondo me però puoi dire sono il ragazzo di prima pensa se lei passa e ti vede perché è una voce giovanile come dice ma che ragazzo sei che razzisti ma perché razzisti semplicemente rileviamo le differenze socioculturali e genetiche e morfologiche che sono connaturate all'essere diverso ma poi abbiamo detto come se vi dico sono italiano la diversità è ricchezza ragazzi cioè vabbè è la cancellazione della diversità mentalista avrà pensato a massa sto ragazzo che voce da vecchio dov'è male allora giochiamo no aspetta finiamo di commentare due tre cose sono le 18.53 no abbinisci le tue aspettative raccontami un attimo cosa ti aspetti facciamo un cortolito in cui racconti cosa ti aspetti no perché vorrei parlare dopo quando mangiamo no quando mangiamo perché interrompiamo allora solamente questo voglio che commenti il blocco degli account di questa notte è incredibile è arrivato un missile stavo per fare la live alle 20.21 di Jedi Survivor alle 20.48 c'è una tipa di Netflix che mi scrive e mi fa ciao Paolo guarda ti voglio lasciare questo link è una cosa che abbiamo appena annunciato alle 20.48 nel blocco degli account in Italia quando le borse sono chiuse e le rotative sono ferme che ne dici che parliamo di Netflix che da ieri sera ha ufficialmente avviato la pratica di blocco degli account condivisi anche in Italia ovvero se non sei all'interno della stessa c'è un check particolare di IP di sessioni e di device esatto in realtà cioè si può girare comunque no si può girare nel senso che io mi loggo tra virgolette nel mio device da casa dopodiché vado in giro posso andare in vacanza due settimane per due settimane poi mi butta fuori poi ti butta fuori e se lo fai più di tipo due tre volte nell'arco di me pare tre mesi ti dice e quindi che succede da quel punto quello che fanno è che o puoi esportare tutta la storia e ti fai un abbonamento ex novo oppure chiedi al proprietario di quell'abbonamento di spendere mi pare cinque euro per ogni utente extra fuori da quel nucleo familiare e da ieri si è attivato va in roll out su gli account quindi da un momento all'altro succederà anche al vostro account allora posso dire che al mio è già successo ok posso dire che credo di aver venduto Netflix qualche tempo fa cioè hai venduto era tua Netflix no però le quote dovrei averle vendute ma aspetta aspetta ma era tua Netflix in parte sì in parte era mia scusami Alessio mi stai dicendo che tu avevi Netflix e l'hai venduta ma quando l'hai venduta quando ancora facevano i DVD o da quando aveva ripreso la roba l'ho comprata quando c'è stato il crollo te lo ricordi il crollo mostruoso quando c'è stato il primo in versione di abbonamenti esatto però mi sembra di essere già uscito lo sapevate che Alessio aveva Netflix cioè era una notizia di cui lo sapevate o no cioè è incredibile la società e non l'account l'abbonamento mi raccomando esatto non l'account la società cioè insomma non è male sta cosa qui aspetta portafoglio incredibile questa cosa vale anche per la piattaforma di Pianesani no quella non c'ha mai nessun controllo sull'utenza nessuno finalmente Spider ci dice finalmente vi becco in live vi ricordate di me ti ricordi di Spider guarda Ubisoft con quel coso sono più 20% più 20% Ubisoft mamma mia tu veramente sei entrato al momento giusto non vi voglio raccontare i soldi che sto vedendo negli indici azionari negli investimenti di Alessio preferiscono raccontarvi il dossier titoli che ha un vi dico solo più 24% ma non vi dico la cifra vi dico solo più 24% non vi dirò la cifra che sto leggendo e e e no le ho vendute l'ordine di grandezza sei cifre posso dire l'ordine di grandezza sei cifre e il le ho vendute quindi posso parlare liberamente ci sono due cose che mi fanno storcere il naso uno che mi fanno storcere il naso o no nel senso questa cosa doveva arrivare perché secondo me è sempre più chiaro il fatto degli abbonamenti dice dove arrivarsi che Netflix abbia problemi gravissimi di bilancio e quindi deve come Spotify deve capire cioè o solidivi Spotify forse è pure peggio esatto c'è roba che secondo me sono giocattoli che rischiano di saltare in aria da un momento all'altro quindi se va bene così se va bene vanno di cazzo altrimenti non c'è più l'alternativa questa continua crescita basata sulle perdite è finita quindi devono fare così quindi da questo punto di vista è comprensibile la scelta di bloccare i portoghesi che condividevano ti fa cagare quella roba lì esatto la questione è che per esempio si potevano assumere una responsabilità ulteriore che era quella di fare un check per esempio di cognome o di relazione quindi una roba identificativa vuoi fare un check di cognome lo vuoi tuo padre fa l'abbonamento per per avere la possibilità di poterlo condividere senza questi accessori e tu sei via basterebbe che facessero un controllo che effettivamente c'è un legame di parentela non è una rottura di cazzo però l'alternativa l'alternativa è che paghi esatto dopo di che dopo di che dopo di che c'è mi pare che l'abbonamento in più 5 euro al mese 4 euro al mese per ogni profilo esatto per ogni profilo che voi aggiungete tra l'altro non è molto chiaro questa cosa qui non ho controllato se parliamo di l'utente singolo perché sapete con l'account Netflix puoi creare mi sembra 4 o 5 utenti cioè se crei un nuovo master e quindi quello può avere 4 utenti in casa secondo me restano la possibilità di suddividerlo io non sono convinto secondo me crei un nuovo slave non un nuovo master questo è possibile ma uno slave con privilegio di poter andare in giro per il mondo sì ma non che quello lì può fare altri 4 sottaccanto no no non avrebbe nessun senso no no è scontato è nì però non avrebbe nessun senso perché in questo modo mi permetti di fare un altro nucleo familiare appoggiato al primo no secondo me no secondo me è uno slave e l'altra cosa invece che dal mio punto di vista fa storcere molto il naso e questo sono d'accordo anche con Moro che ha mandato un messaggio a riguardo ha fatto un post e mi sono stupito molto del costo cioè per avere il 4k che penso che ormai dovrebbe essere come le patatine commodity cioè il prezzo arriva a 5 euro al mese no 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 l'abbonamento vabbè l'abbonamento che c'entra Moro come al solito sono uscito un po' in ritardo è da sempre stato così però Netflix non è che hanno cambiato adesso il costo dell'abbonamento quanto costa il 4k? mi pare 19,99 se non ricordo male per il 4k vabbè ma comunque c'è 20 euro al mese per averci la versione massima ma cosa fai? tu lo guardi a 1080 no io ho 4k ma ce l'avevo in condivisione perché diceva io non l'ho provato a 1080 a 1080 diceva che oltretutto con la compressione fa schifo vedi i neri a blocchetti fa cagare ma anche con il 4k vedi i neri a blocchetti per me è quello un po' inquietante cioè 20 euro ma cosa è complicato il fatto che ogni singola versione in più si 5 euro sono 5 euro in più quindi può arrivare anche a 15 euro in più si non mi ricordo sono 4 o 5 account non mi ricordo se sono 4 o 5 Dazon costa 30 euro al mese ma lì sono d'accordo ed è pure abbassato ma perché quanto costava Sky ma sono d'accordo Sky 100 euro al mese perché per me il tifoso di calcio può spendere qualsiasi cifra esatto è come un utente Playstation esatto è come un utente Playstation confermo devo essere munto però non capisco Netflix è in trattenimento mi sono perso la critica di Moro ma se Moro è arrivato nel 24 maggio a criticare il prezzo d'accanto di elaboramento di Netflix perché diceva che spendi 20 euro più vai ad aggiungere anche 5 euro a botta cioè comincia a diventare veramente costoso però se siamo io e te invece di spendere 40 euro ne spendiamo 25 cioè questo è il risparmio invece di spendere la tua idea è che spendo solo io e tu sei un parassita di merda facciamole a mondo normale io sto spendendo i miei 20 euro al mese ti posso dare un account oppure spendiamo 25 invece che io pago 5 euro in più e basta quello mi sembra scontato che pagheresti 25 diviso 2 perché è la tua idea io ti do l'account e paghi 5 euro ma attacca dal cazzo e fate la buona meta a 20 euro ovvio che ce lo spendiamo pago per il servizio vedi che cazzo d'amicizia è cioè ok ti do il mio account 5 euro in più lo dividiamo in due ovviamente ma altrimenti che cazzo è fa extra schifo sta roba quindi ragazzi cioè comunque facendo due conti due tre conti ragazzi resta il fatto che allora a questo punto cambia il cazzo infatti io infatti adesso io distrino e farò l'account che ora che lo stanno modificando l'account è quello con la pubblicità che è quello che costa meno di tutti ok perché adesso lo passano a 1080p e tanto pure se mancano dei programmi non me ne frega un cazzo perché i top non mancano ma scusami tu invece con chi lo smezzi con mio padre io ce l'ho con papà ce l'ho e adesso esco perché e quanto risparmi alla fine? perché dovresti fare quello della pubblicità più i 4,90 per tuo padre no dovrei fare i 5 euro per mio padre gli dovrei dare i 5 euro ma il problema è che quanto costa quello con pubblicità? 5 euro al mese fare 6,99 se non mi ricordo male quindi insomma con 10 euro te la cavi e te lo porti a casa? no come no? sì no perché faccio quello ex novo 5,49 quello con pubblicità quindi c'è 5,49 più 4,99 perché più 4,99 che cazzo è mi sgancio da mio padre faccio solo quello ad abbonamento con pubblicità punto ah cioè non è che tu e tuo padre fate questo? no mio padre so cazzi suoi se lo vuole continuare o meno perché il problema è che se potevo fare un nuovo master perché io ho il mio quello di Eli e quello di mia figlia e farmi solo un account che lo condividiamo perdonami perché non uso Netflix Netflix tu puoi creare 4 account con un abbonamento però io pensavo che fosse una roba che non usasse nessuno a casa mia se non se non per loggarsi da altre parti cioè o per condivisioni strane però a che cazzo servono i profili di Netflix di tua figlia e di tua moglie perché altrimenti vedi la roba consigliata cioè ti crea l'algoritmo sulla tua base vedi tutto con mia figlia perché così evita di vedere Stranger Things perché gli fai l'account bambino che ha una selezione e lei si logga da sola? sì la minchia c'ha 6 anni e perché non si logga col tuo account perché ha bisogno di una password? perché sa che deve andare col suo cioè si chiama ma ho capito ma se non la vedi si chiama bambina appena non la vedi sarà lì che si farà di eroina che si farà di eroina davanti alla televisione con il tuo account in porno oggi a mia figlia che comunque mi rispetta sa che si deve loggare con il suo account quindi lei si logga con il suo account ha ragione Alessio ma la televisione è in salotto cioè non è che può vederla senza che io lo sappia ma cambia canale quando passi ma sta in salotto sta non è che sta nella sua stanza quindi questo problema non si crea rispetta l'educazione il problema è che per esempio altrimenti mi ritrovo sul mio account forse vorresti vedere Bridgerton Bridgerton tutta quella roba lì mare fuori esatto mare fuori Bridgerton tutte quelle robe lì e mi caga il cazzo come Spotify io Spotify per disperazione ho dovuto fare tuo account io Spotify ho dovuto fare tuo account ogni volta che mi partivano le playlist consigliate avevo solo musica napoletana a questo punto a questo punto però ti devi prima devi prima accertarti del fatto che effettivamente come presupponiamo sia uno slave secondo me uno slave devo controllare questa cosa qui ma io credo sia lo slave no di Spotify ho fatto quello duo che hanno ammesso un annetto e mezzo fa che costa la metà di due abbonamenti quindi non è come il family che costa un botto mi sembra costi 12,99 euro oppure puoi dire io farei così tanto tuo padre ormai c'ha la sua età c'ha i suoi soldi da spendere la vita regalavelo no ma non solo tre ah gli dico di regalarmi tre ah cioè si tiene lui il suo e poi ti paga 5,5,5 quindi spende lui 35 euro al mese ma che cazzo gliene frega è lì pieno di soldi che deve morire però a parte che ma li mortacci tu perché deve morire mi padre comunque non è così vecchio dopodiché cioè che senso ha però sto discorso cioè perché odio i napoletani ho sposato una donna napoletana non li odio è che chiaramente lui lui ragazzi lui ha sposato una donna napoletana proprio per avere la scusa lui odia profondamente i napoletani per avere la scusa li odia poi dice oh però ho sposato la napoletana ed è probabilmente la cosa più lontana se la vedi da una napoletana no come dice bene l'eroe legge napol odio i napoletani non le napoletane anche questo effettivamente è bella come cosa allora giochiamo però per il discorso che ti facevo no voglio quindi voglio solo che rispondi afferisce a me voglio che rispondi no però come rispondi ero a cena con Nintendo ero a cena con Nintendo che schifo non mi raccontavo niente di Modena Play ma niente abbiamo cenato e siamo stati benissimo c'era un ragazzo che lavora con Nintendo e mi fa parlavamo del film parlavamo dei successi insomma che schifo cioè quello di Nintendo ha fatto l'avista Super Mario e ho detto no aspetto che scapirata e poi il bello che gli ho detto ma perché sa ancora TS no invece non è uscito HD mi sono sbagliato perché mi ero dimenticato che l'avevo salvato che è già uscito HD e deve ancora uscire in digitale come fai adesso? no già li vedi stasera? però mi ha fatto ridere che ho detto quello di Nintendo aspetto che è scapirata però loro non gli frega un cazzo è Universal quindi no scusami quello che ti volevo chiedere era ma no lui però mi ha detto ma dai vai al cinema veramente? no già avete fatto 2 miliardi non gli potete che cazzo cambia? gli ho detto hai bisogno dei miei 10 euro te pago un nocino senti no quello che ti volevo chiedere come risponde cioè come colleghi questa roba con Disney hai visto Disney che ha fatto il megataglio su Disney Plus? megataglio dei contenuti megataglio dei contenuti megataglio del personale allora il taglio dei contenuti per me è incomprensibile io non capisco quali sia la logica come risponde? hai fatto uscire Willow ok è venuto una merda però cioè dov'è il problema a tenere la roba anche il pattume cioè si vergognano talmente tanto del prodotto probabilmente pagheranno in licenze sì però aspetta è questo che non riesco a capire ma è possibile che non ci siano degli accordi evidentemente no che abbiano un corrispettivo tra le views che però non dichiarano i pezzi di merda e quello che devono pagare in licenze anche degli abbonati pure Disney Plus secondo me Disney Plus secondo me Disney no oggi Disney è un grosso problema anche Dial of Destiny con tutto che si sono coprati Marvel e Star Wars ricordiamo sempre Dial of Destiny allora Marvel l'hanno disintegrato Star Wars meglio Marvel perché almeno Marvel hanno avuto un ciclo positivo con Star Wars non hanno avuto nessun ciclo positivo però questa è una grande dimostrazione del disorso Activision Blizzard e Call of Duty cioè ci vuole poco a rovinare franchise super affermati aspettiamo però però aspetta Disney è un grande disastro tu ci chiedi a Bob Iger che ce la fa? Bob Iger che ce la possa fare? no allora la situazione è disastro hotel è chiuso però non è roba sua cioè nel senso capito allora c'è un problema i parchi a tema hanno un problema fondamentale non sono più democratici quindi la roba esatto non sono più democratici dagli anni 60 le esperienze che hanno provato a fare per monetizzare con stanze da 600 euro a tema di un franchise 1200 di un franchise de merda ad oggi si è tradotto in un fallimento quanto gli sarà costata purtroppo stiamo parlando di Star Wars Galactic Cruiser che è questa esperienza questo hotel tutto a tema che tu avevi questa esperienza di tre giorni in cui dal momento in cui entravi giocavi di ruolo coi vestiti a cena dentro al parco e costava circa 1200 1600 dollari a notte cioè prendevi dei pacchetti da 4-5 mila dollari per la famiglia una roba brutta cioè di base è brutto aspetta se il franchise è messo come è messo adesso ma che franchise è buono no no se Star Wars l'avessero coccolato fatto funzionare magari c'era la speranza però rimane il fatto che tentare di monetizzare a 1200 euro a notte quando l'obiettivo purtroppo non c'è la soluzione è molto difficile ingegneri gestionali lavoro e roba del genere è devi abbassare i prezzi fare in maniera che la gente entri e non debba fare la spegas fare file da 700 mila ore e roba del genere l'esperienza degli Euro Disney dei Disney World dei parchi a tema oggi è una merda non c'è andrà neanche sotto tortura io ci sono andato con mia figlia si è divertita tantissimo però a livello monetario è un esborso mostruoso e la qualità della vita è comunque bassa è comunque bassa qualità del cibo qualità della vita perché sei arrivati al punto in cui nemmeno puoi dire sai cosa spendo un sacco di soldi e ne esco vincente sì lo puoi fare no perché c'è il mezza prenotazione che però devi avere sempre l'app in mano per prenotare allora io sono convinto cioè non puoi entrare e farti tutto quello che ti pare io sono convinto che Fedez e la Ferragni quando sono andati lì no aspetta hanno pagato tanto e vengono presi e portati no per me per me non c'è non c'è un tier miliardario a meno che non ci sia un accordo di marketing no a parte se ne devono fare la pubblicità no no cioè se hai solo i soldi per me là dentro non cambia un cazzo io non sono così convinto per me non cambia un cazzo perché non c'è non c'è sulla casa non lo puoi comprare non lo c'è non c'è non lo puoi comprare quindi o è un accordo uno a uno perché sei un personaggio famoso è un personaggio famoso lascia perdere quello secondo me è un accordo uno a uno ma anche se sei molto ricco se sei il presidente della coca cola che nessuno sa chi sei li chiami li fai sto per venire con la mia famiglia ho 20 mila dollari che mi sbalano in tasca mi potete portare a saltare tutte le file secondo me te lo fanno hai mai visto qualcuno che saltava delle file così brutalmente inaspettato non facesse neanche perché è anche la privilegiata che fai comunque la fila guarda non so stare l'ultima volta adesso a Parigi a Disneyland alla Disneyland Resort c'è stata un'attrazione in cui ho visto una famiglia chiaramente dell'est entrare in un punto in cui io non ho capito come arrivavano in quel punto e per passare davanti a tutto che non era il priority pass perché salta la fila purtroppo non è accessibile a meno che non ci sia qualche accordo fuori Europa che hai delle buzz strane non è fattibile quindi i parchi a tema sono una merda i film forse li stavano arrestati Marvel è nella mota più totale Star Wars non è mai non è mai emerso è stato nella mota Marvel però Guardia di Galassia è andato benissimo benissimo no 600 milioni ne è costato 300 se non arriva a miliardi è andato malissimo no non malissimo a livello di critica è andato molto bene sì sì aspetta se il prodotto tra virgolette non è non gli fa fare soldi ma probabilmente qualità esatto fa quello che deve fare mentre però arrivano da una killer streak ma c'è però già si era infranta pure Antony da Endgame è stata una morte Dai Liquid Snake dice eccoli i contabili vai lui dice che non è vero vai di cosa che Marvel è sì ma Marvel i soldi gli ha fatti nessuno lo mette in dubbio ma guardati l'andamento in borsa di Disney cioè è un crollo totale è un crollo adesso guarda che i soldi li perdono vai 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 avanti e dopo abbiamo Dial of Destiny Dial of Destiny che non so se hai visto i Metacritic non so che cosa sia Dial of Destiny Diana Jones mamma mia 40% ma solo te ci potevi credere guarda che di te nell'ultima live che dici ho visto il trailer insieme a Ricchioni ci siamo gasati cioè sarà solamente te Ricchioni Ricchioni non l'ho citato l'hai citato non l'ho citato per quanto riguarda Dial of Destiny alla grandissima perché non so cosa ne pensi alla grandissima quindi non ho idea non ho idea no vai allunga pure allunga pure metti cinque anni cazzo guarda lì cioè è stato il doppio il doppio ragazzi vale la pena comprare eh allora visto che tu credi in Boy Biker e in Ricchioni vale la pena comprare vale la pena vale la pena vale la pena se credete nella in quella società in Boy Biker scommettere cioè la questione questa è una scommessa esatto è una scommessa cioè nel senso io mentre con Netflix quando l'ho visto crollare gli ho presi proprio a segno circolare perché era chiaro che era un crollo di liquide di monetizzazione esatto gente che ha monetizzato investitori crollo è arrivato il plateau degli abbonati e dopo sarebbero arrivati anche Recklin è molto critico ti dice devi smettere di pensare che nel momento in cui un film guadagna 600 milioni al botteghino ha un flop no non è un flop però se ti è costato 600 milioni cioè e ne hai cassati 600 il 50% lo devi dare al circuito cinema hai perso 300 milioni non è costato 600 non è costato 300 quindi comunque deve fare 900 milioni per essere perché Disney si accontenta per una roba del genere perciò guarda Charles Carrara sono stato sia a Disneyland Paris che a Disneyland California confermo quello che dice Pierpa sulla gente che evita fila io sono convinto che abbiano un 1-1 secondo me c'è l'occhio dei poveri e tra l'altro Gamago dice Alessio lo Star Wars il 2015 è terzo per guadagni nella storia il secondo ha sobrato i miliardi e mezzo il terzo che è andato peggio ha fatto 1.3 miliardi di incasse avete ragione sono molto criticati ma i soldi li fanno vai su Mojo scrivi Star Wars Francesco Star Wars Box Office Mojo guarda il crollo però questo qua mi sa che è locale ha fatto 936 milioni solamente in America porca troia no 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 però mi ricordo che aveva fatto il miliardo secondo me sì no dicono sì confermano è solo America questo fai Worldwide ah no fai Alltime ce li andiamo a cercare Alltime poi metti esatto Worldwide e poi fai il top lifetime gross in alto in alto in alto in alto ok fai una ricerca per Star Wars vedi ha fatto 2 miliardi e quello è stato 2 miliardi però guarda guarda la cosa fai contro 1 miliardo e 3 cioè renditi conto che cosa avevano in mano e che cosa è saltato però guarda è migliorato sul mercato domestico perché è 46 contro 45 ma è peggiorato sul mercato straniero e poi vai e poi vai a cercare quell'altro eccolo lì un'altra miliardata cioè comunque ragazzi guarda che è strano anche questo ulteriormente meglio sul mercato domestico ma ulteriormente peggio sul mercato straniero allora secondo me strano no secondo me sono calati entrambi ovviamente perché incazza meno ma è calato di più all'estero laddove per esempio che ne so la Cina ti ci va di meno perché hai visto che avevano tirato anche via il nero in copertina perché ci sono è vero cioè ci sono dei posti dove è vero ha meno appeal e quindi se non è un franchise di iper successo di qualità o roba del genere perdi più velocemente mentre in America probabilmente è calato è calato meno che all'estero certo che Avengers 2 miliardi e 8 sono tanti soldi 2 miliardi e 8 anche Avatar 2 miliardi e 3 miliardi sì però questo col 3D ricordiamoci sempre col prezzo del biglietto maggiorato cioè Avatar cioè è vero che c'era il 3D anche Avatar ma di certo non è che il 100% l'ha visto in 3D che sveglia quella roba lì ci sta ma pensa pure Titanic ma è incredibile pensa Cameron ha fatto 10 miliardi 8 miliardi più o meno anche tu hai fatto 8 miliardi di incasso con i tuoi film penso che sia la produzione del cortocircuito anche Jacopo penso non vorrei dire una cazzata sia Steven Spielberg quello che come regista ha incassato di più in assoluto Lifetime ha incassato perché lui si è messo in tasca soldi i suoi film sì i film anche questo qua i film di Spielberg che nel totale hanno incassato in più dei film di James Cameron sì sì qual è il primo film dei Spielberg che vedi qua in mezzo insieme insieme ma ne avevi fatti tanti ne ha fatti tanti sì è vero 200 film ma vai guarda cerca fai una ricerca il regista più pagato dell'ultimo no più pagato però è sbagliato il regista che ha incassato di più con i film non lo so fai una ricerca director può essere può essere Cameron ne ha fatti pochi no che era saltata la cosa Haig Grossing eh c'è ragione esatto eccolo qua è subito davanti però gli sta arrivando in culo gli sta arrivando in culo col prossimi avatar super però hai visto Haig Grossing Cameron c'è 3 miliardi sì dico però con i prossimi 4 avatar teoricamente Cameron passa sopra perché per quanto può incassare Spielberg sì non si sa mai cosa può tirare fuori Spielberg però Cameron quanti film ha fatto penso avrà fatti un decimo di Spielberg assolutamente assolutamente quindi comunque quindi comunque no mi stupisce Peter Jackson Peter Jackson ha fatto tutti sti soldi fondamentalmente cozione degli anelli perché poi insomma non è che abbia fatto queste altre grandi robe King Kong secondo me non gli era andato male comunque il primo King Kong economicamente secondo me era da 600 milioni King Kong il primo rifatto ovviamente sì 600 milioni secondo me gli aveva fatti interessante questa classifica interessante resta Steve Peep perché insomma dopo un prevedibile James Cameron eppure Michael Bay sei fan di Michael Bay? ma il giusto vabbè dai a me comunque cioè se uno è consapevole di quello che fa un operaio bravo cioè se uno ma non un operaio bravo ma che un autore cioè semplicemente lui vuole fare quella roba lì la fa e spesso e volentieri comunque è divertente comunque la cifra stilistica esiste poi ti può piacere o non piacere non so perché ho scambiato Michael Bay con Chris no ma ovviamente Michael Bay è quello di Transformers oltre 100 milioni gli altri film d'azione Nolan vabbè Nolan chiaramente no ma Nolan fa tutti già più film d'autore a me mi stupisce che sia così in alto in realtà Nolan a te non ti stupisce che sia così in alto Nolan che ha fatto film d'autore no perché ci sono i tre Batman ah i tre battoni gli avranno fatto un miliardo c'è ragione c'è ragione va bene a posto si si battono avete ragione avete ragione che avete preso voi? pizza guarda che ho preso per la tua gioia ne parlava prima che gli faceva cagare mi fa cagare la pochè io mangio sushi a tutto spiego ma la pochè mi fa vomitare il pochè la pochè il pochè mi fa vomitare eh lo so ma a me mi fa vomitare ci devo fare certo non è non è come andare a mangiare sushi al ristorante ovvio grazie al cazzo c'entra pure la pizza non è come andare a mangiare a pizzeria allora comunque dicevamo Disney Disney ha il problema che lo stato attuale dopo aver incassato del ciclo ultra decennale ultra non so quanto sono durati dal primo Iron Man comunque a parte quel ciclo dove siamo sui 15 anni sicuramente epico a livello produttivo a livello economico a livello anche qualitativo perché no 2008 quindi siamo a 15 anni precisi 15 anni esatto non gli rimane più niente allo stato attuale perché a livello di animazione purtroppo no c'è l'unica parte che si salva invece perché Disney Animation non Pixar esatto Pixar sta sigliozzando Pixar non voglio riaprire un dibattito che ho sempre con Simone di Free Playing per me Pixar è veramente uno scheletro da 15 anni è veramente la merda totale ti prego andava tutto benissimo infatti perché stai spostando era buona l'illuminazione secondo me Disney Animation oggi è eccellente però no perché Disney Animation non è costante guarda gli ultimi film guarda gli ultimi film incanto basta Moana Frozen 2 Moana io non so quanto è incassato è incassato a parte che ti è piaciuto è incassato giudico sul fatto che mi è piaciuto ovviamente giudico sull'incanto che faccio Mojo metto Mojo Disney Animation no no io farai Disney Animation su Wikipedia guarda non ti va bene così perché è America almeno che non li fai release date no ma questa è America però ma è uguale non ci interessano gli incassi adesso ci interessa sapere che cosa ha fatto guarda è perfetto 2.21 Raya Raya io l'ho visto mediamente pattume mi è piaciuto ma stiamo parlando di incassi o di bellezza allora vai di incasso discutiamo perché tu dicevi che stanno peggiorando come incassi non sono costanti giusto questo è quello che ho capito prova ma anche qualitativamente sì però dobbiamo farlo uno dei tuoi punti di vista della classifica come incassi hai ragione te perché 2019 e quello prima che aveva incassato di più era di 6 anni prima quindi chiaramente sono incostanti 2016 2016 2016 no però vorrei vedere la lista dei per qualità esatto tu preferisci per qualità però io non li ho visti tutti cioè però incanto bello bello ok lo dicono no frozen come fa esserci frozen ah una realist i cazzi frozen 2 mi hanno detto tutti successo commerciale molto più bello del primo più bello per te perché ne ho sentito parlare in tutt'altro modo molto più bello ralph bello anche il 2 chi ci vuole dire il 2 è brutto vogliamo fare un combattimento con il primo sono belli tutti e due moana bellissimo zootopia bello big heroes x a me fa vomitare big heroes x però so che la gente l'ha discusso frozen bello spacca tutto bello winnie the pooh non l'ho visto che cazzo era forse secondo me il film è quello con juan mcgregor se non ho messo questo qua dangold è carino è carino che sarebbe la peronzolo la peronzolo sì è carino però ne parlano come un film poco generazionale epocale per le ragazzine quasi compete con frozen dal punto di vista della popolarità dei personaggi delle ultime principesse disney che hanno non credo se compete con frozen la principessa era un occhio vabbè forse l'ultimo cartone animato animato disegnato disegnato di disney oltre quello del cane comunque sì quello del cane e lì era un po' cioè secondo me un ruolino sensato sì cioè forse ero più tragico di quello che pensassi frozen 2 è più bello del primo assolutamente juan mcgregor enormemente pixar oltretutto non sembra dare l'idea di stare svoltando ritrovare l'anima c'è questa nuova roba quello dell'acqua e del fuoco che deve uscire è inquietante mamma mia andiamo a vedere pixar però non stiamo giocando Pierpaolo andiamo giocando subito facciamo questo qua e andiamo a giocare leviamo le re-release discutiamo on world ma che cazzo sono le re-release in piccoli cinema ma che cazzo si può essere che guarda i numeri on world on world era pattume totale perfetto toy story 4 non l'ho visto pattume totale incredibili 2 pare che fosse un carino 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 coco bello cars 3 ma c'è qualcosa che non va qui ah no inside out addirittura è prima di finding door c'è qualcosa che non torna in che senso cioè inside out è uscito prima di finding door ah no sono ordina 2015 inside out che cazzo è non ha senso cioè prima di the good dai lo so no no è impossibile ma lo sai che effettivamente cars 3 guardi wikipedia ma chiaramente è sbagliato guarda wikipedia guarda wikipedia 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 pixar evidentemente quasi ragionete avete preso con l'inglese filmography scendi 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 vai in fondo va in fondo va in fondo va in fondo ecco qua però torniamo ha più senso light year merda no guarda che sono giusti finding door è più nuovo di inside out e cars 3 anche evidentemente ma è un corto forse no no sono i film evidentemente no dory è il seguito no è il seguito di nemo ma è uscito dopo inside out eh oh che cazzo però sono due su due che ci danno sta conferma ma anche the good dinosaur pensavo che fosse prima di inside out che ti devo dire evidentemente però cioè mi fiderei perché sono due su due che dicono la stessa cosa però è così allora andiamo qua finiamo la fila light year merda merda totale turning red per me merda non l'ho visto però però tendenzialmente è stato un fallimento e ne hanno parlato Luca merdissima no merdissima no tanto di rispetto sicuramente cioè è chiaramente c'è qualcuno che ha rivisto Luca no e che si sono lamentati i produttori italiani il regista italiano sono lamentati del fatto che non l'abbiano voluto far uscire al cinema ma tranquillamente fosse quello il problema era un film da cassetta se usciva al cinema era un flop esatto gli è andata bene era un film normale Soul è incredibile perché se ne è parlato come se fosse un miracolo ma solo perché è uscito in digitale altrimenti sarebbe stato un altro flop Onward è proprio pattume Toy Story 4 pattume Creepy 2 carino Coco secondo me è molto bello Castré no comment esatto la ricerca di Dory non lo so sarà carino cassetta sempre sì come Monster University non puoi dire che sono brutti esatto però chiaramente non c'è l'anima dentro no zero Inside Out cioè non c'è l'urgenza di voler dire qualcosa di voler raccontare ma è l'urgenza di continuare a usare un IP dormiente Inside Out vabbè bello perché per esempio con Toy Story possiamo dire che il 2 e il 3 c'era ancora voglia di raccontare qualcosa sì Inside Out vabbè bello Brave per me pattume Cars 2 vabbè no vabbè però dopo qui stai entrando però poi dopo nell'eccellenza esatto ma l'epoca d'ora è finitato la storia di TV sì non ho visto Cars 2 non ho idea Brave era il primo tentativo di svicolare no l'ho visto Brave beh brutto Brave senza l'inizio nel coda senza il capo nel coda sbagliato doveva però però volevano provare a raccontare qualcosa male esatto però comunque c'era coraggio sì c'era coraggio che si è infranto contro cioè per me nel 18 giugno 2010 è finita ma se gli universi io non l'ho visto però probabilmente è un filmetto carino sì carino però è cassetta è carino è roba che una volta sarebbe uscito direttamente un video sì probabilmente sì esatto cioè per me qua questo lo dico per Simone che ci sentirà dopo Toy Story 3 18 giugno 2010 Pixar non esiste più io non sono un amante neanche di Inside Out devo essere sincero anche a me non è piaciuto particolarmente però c'è però però strappa la lacrima facile perché ha figli può funzionare poi ricordiamoci una cosa quando si parla di Pixar quando si parla di Pixar si pensa al periodo d'oro solo ma solo ragazzi si usciva al cinema è una roba zero è una roba che che è sta roba non lo so spingi il telecomando ok e stiamo ovviamente non è che sono brutti film gli altri però stiamo parlando di Pixar che era un evento ogni volta che usciva ed era un evento dove le aspettative venivano rispettate se non superate Up Wall-E Toy Story 3 il primo Toy Story il primo Monsters & Co cioè dai di che parliamo parliamo veramente di cioè una voglia di raccontare che è sparita io arrivo fra due minuti ma dono a cuore ma c'è così sembra come c'è la prostata che a un certo punto ti devi alzare andartene vabbè no solo ragazzi solo veramente eh si apri una birra non ce ne sta nessun'altra no quella già aperta la puoi buttare eccolo Simone Simo l'ennesima conferma cioè 18 giugno 2010 la morte di Pixar si celebra Sol va bene streaming esatto ha fatto il suo lavoro fu uno dei primissimi che arrivava al lancio su Disney Plus se ne parlò tanto ma è veramente una roba completamente inutile fosse uscito a fosse uscito al cinema proprio flop cosmico dopodiché si Coco e comunque Inside Out sono un po' due moschie bianche del post Pixar storico quello ci può stare Zootropolis però è Disney non è Pixar cioè Disney Animation non Pixar solo un film sulla musica senza la musica allora fatemi ancora vedere beh non mi piace stare discutendo eh solo è molto maturo è trasversale tra le generazioni non so che è trasversale tra le generazioni per me è trasversale quando è come Frozen 2 che lo vedi se sei adulto e se sei un bambino solo se sei un bambino non lo vedi proprio cioè proprio zero quanto secondo te è dovuto alla dipartita di Lasseter sta roba qua allora dal mio punto di vista quando fanno dei seguiti è lì che interviene Disney che vuole comunque monetizzare e tenere vive delle IP cioè nella scelta di fare Soul invece di Elemental cioè quindi la scelta del pitch quanto può intervenire secondo te l'Asset allora secondo me la cultura aziendale creativa e roba del genere che l'Asset ha lasciato non è finita ah ok quindi no però in mezzo ci metti calda lo stavo dicendo perché si Frozen 2 è merda fumante Snorky non so che dirti Frozen 2 è cento volte più bello di Frozen 1 proprio c'è ma a me piace di più sì no vabbè ma è tutto più completo sento come film rispetto al primo è tutto più completo allora l'unica cosa buona di Frozen è il livello vabbè ma cosa mentre non ci sono mentre non ci sono vuoi ripare il pezzo che significa? vuoi ripare il tutto stesso ah tutto quanto ma scusa proprio te ne vai così proviamo a far parte un po' di gameplay va bene allora collezioni Resident Evil 4 Resident Evil 4 vediamo se parte o se esplode la Disney è morta hanno ucciso tutto la sua fastidio politica no ma è incredibile il mediana Jones ragazzi Armageddon Warrior amico mio Armageddon ciao Spider-Jean perché ho cambiato paese e lavoro dove sei andato a vivere e che lavoro fai adesso Armageddon Warrior con il tuo d'accordo puoi recuperare per favore Alessio che diceva che Indiana Jones aveva delle good vibe sul nuovo Indiana Jones mentre io gli dicevo guarda che se non me farà cagare esattamente quel teschio di cristallo lo dovresti recuperare su quella roba là mi bevi Anakin l'ha presa Alessio io non sono fan dell'Anne ma perché vi ma perché vi chiami che sei qua fuori hai avvertito la vigilanza? no non l'ho avvertita chiamala bravissimo chiamala vigilanza bravo mi sono dimenticato e non l'ho detto e manca Pucci ciao chiamala vigilanza ciao aspettate che vorrei fare anche un'altra cosa voglio provare a chiamare Serino così a sorpresa senza che se l'aspetta proviamo a fare una chiamata a Serino senza che se l'aspetta vediamo che succede proviamo questa fa ridere secondo me pronto sono in live e ti sentono tutti e ti sentono tutti che bello mi hai risposto subito esatto perché stavo guardando gli effetti di un'altra nudo no fermati ti sento malissimo stavi vedendo? gli effetti della sauna nudo volevo vedere quindi stavo sull'altra ma perché hai paura che tipo che ne so che ti si stacca la pelle o ti cade il pisello stavi controllando sta roba? non ha il velo pendulo capisco pura che sia non mi rilassi troppo si sento malissimo perché stai in sauna adesso? pronto? aspetta mi vuoi chiamare sì ti chiamo fra due minuti vabbè lo chiamiamo fra poco e ok eccoci Ben Affleck sicuramente meglio come regista e come attore sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo no non è un cane come me è Damon cioè sono degli attori che sanno fare il loro lavoro secondo me a me volete che vi dico la mia a me onestamente Ben Affleck come Batman non è mai dispiaciuto se devo essere sincero è che purtroppo gli hanno fatto fare dei Batman gli hanno fatto fare quel Batman di merda lì purtroppo però secondo me non è così malvagio Ben Affleck onestamente cioè cioè tipo tipo Matt Damon so quegli attori americani molto cioè hanno quella monoespressione quello stile standard eccetera eccetera secondo me non è non è così non è così male onestamente se devo essere sincero sicuramente come regista è ha dimostrato di avere una marcia in più ma alla fine un po' come Clooney anche se Clooney ha fatto dei film molto belli come attore mentre come regista quanti ne ha fatti veramente belli i Clooney come regista due tre quindi insomma è da discutere secondo volete che vi dico la mia preparatevi adesso vi discalcio le mie solite bombe che vi fanno avvelenare preparatevi eh preparatevi perché questa sarà una bomba a mano eh preparatevi per me la trilogia di Batman se ci fosse stato come attore Ben Affleck diretto da Nolan con quelle storie non è che oggi staremmo dicendo peccato quei tre Batman fanno cacare perché c'è Ben Affleck io non la penso in questo modo secondo me secondo me Affleck funzionava come Batman vaffanculo addirittura vaffanculo cioè ok non posso esprimere un mio parere vaffanculo cioè nel senso che secondo me come come personalizzazione di di Batman come idea di Bruce Wayne secondo me Ben Affleck funzionava io non sono d'accordo con voi secondo me funzionava è chiaro che Poraccio ha fatto ha fatto quella roba lì quel Batman lì mostruoso con con Henry Cavill secondo me poteva funzionare onestamente cioè non è che avremmo detto ah certo guardi la trilogia di Nolan piagata dalla presenza di Ben Affleck cioè ecco non è il Batman di George Clooney mettiamola così lì probabilmente ci sarebbe stato un problema ma per me Ben Affleck in Batman funziona onestamente io la penso in questo modo onestamente cioè nel senso che probabilmente i Batman di Nolan senza assolutamente nulla togliere da Bale ci mancherebbe però probabilmente la trilogia di Batman di Nolan non è che ce la ricordiamo perché dietro la maschera c'era c'era Christian Bale ce la ricordiamo per per tutto l'immaginario io dico no visto mi stanno criticando stanno discutendo su Ben Affleck Ben Affleck meglio come regista che come attore secondo me però mi ha sempre mi ha sempre divertito sempre soddisfatto anche come attore però secondo te ti dico questa cosa qui per la bomba una cosa è Polale che mi ha chiesto un logo su Telegram ricordamelo domani in privato ok lui non io ho provato a sganciare sta bomba se la trilogia di Nolan di Batman ci fosse stato Ben Affleck come protagonista invece di Christian Bale sarebbe stata una trilogia di merda? stesso identità con quei tre film però con Ben Affleck invece di Christian Bale secondo me Ben Affleck come Batman funziona cioè i due Batman che ha fatto il problema è che facciano cagare i Batman non perché c'era lui sì sarebbe stato un altro film però mi stai chiedendo di comparare la fantasia secondo me funzionava non ne ho idea comunque Christian Bale avrà portato il suo devi fare la tara e poi sarebbe cambiato probabilmente in qualche modo che non possiamo sapere no Tom Hardy per me non sarebbe stato top come sai che non ho mai visto un Venom ho mai avuto il coraggio mamma mia fanno su tutti e due veramente brutti ma tanto brutti però incassano incassano fanno i loro 600 800 milioni per me è questa cosa che anche ora perché è ripartito con quest'altro monitor ma guarda che è incredibile sta roba porca troia santissima comunque sai che ci sono 2400 persone in live niente Alessio sono 2400 persone tu pensi tu pensi che siano persone che sono qui per noi avrà fatto qualche casino Jacopo Dio santo o sono qui per per Playstation Playstation mi è frattalmente tanto quindi tu credi che noi siamo in grado di fare 2400 persone ho chiamato prima Serino ma mi ha detto di richiamarlo fra un po' perché stava cercando gli effetti hai fatto casino perché hai ricambiato lo schermo principale non è più quello è ridiventato quest'altro e sta cosa ha sgarellato tutto perché il gioco parte parte sul mondo ecco vieni qua vieni qua vieni dillo dillo sì sì l'ho fatto io vedi ma perché cambi le cose per quale motivo cosa ti cambiava cambiare lo schermo principale ma non solo cosa cambiava ma non solo lo puoi anche fare se hai una ragione valida esatto perché però rimetti le cose come le hai trovate ma è bello che sei pure arrivato ma che cosa vuoi dire che ho fatto io perché l'hai cambiato perché di là si vedeva male ma che cazzo te ne frega che non lo usi mai per un secondo in cui apri una merda di programma guarda che è incredibile è incredibile questa roba qua quando c'è questo schermo principale invece di quello sbarellano tutti i giochi non mi chiedere perché ma sbarellano tutti i giochi tutti i giochi il 100% dei giochi anche Resident Evil sbarellano tutti quindi non cambiare il gioco guarda niente mai l'abbiamo perso niente è incredibile finché era in finestra non lo potevi spostare finché era in finestra no perché non va in finestra si sbarella ma era quando l'hai aperto era in finestra in modo fa dalle impostazioni vai in finestra mi sembra ovvio però è una rottura di cazzo esatto se vuoi se vuoi anche un giorno a casa tua ti sposto tutte le pentole esatto non è niente che non risolvi gli metti anche i magli spigoli gli metti subito fuori dalla porta non è che ho pensato non è che ho pensato oh guarda gli incassino la laurea ma perché l'hai cambiato che non pensi è questo il problema tu non pensi è quello della regia metto principale con il secondario come sempre come sempre quindi per te tutti gli altri sono stupidi perché l'avevano fatto perché tu sei stupido Pierpaolo questo è sicuramente un pezzino di Jacopo che ci sta ho pensato e sarà scavolato qualcosa da solo da solo secondo te vai aspetta non posso andare perché mo' si spare la OBS vediamo speriamo ci sentite ci vedete ancora speriamo di sì no cosa no cosa sì no sì 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 ci vedo sì conferma è tornata la connessione che fai vai ok ci vediamo non so domani se vengo però no aspetta aspetta non fanno sto casino vabbè allora vai ci aggiorniamo dopo sì hai chiamato la Google Vigilanza? non rispondevo ho chiamato Mincia e ce la chiamano ok buona live a tutti ciao mio caro quindi tu credi che noi siamo in grado di portare 2500 persone? assolutamente no e allora che si è rotto qualcosa? è playstation ah quindi hai detto no 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 scusa no a noi ah ok non riesco a capire dov'era il preset che si impostava ma il preset di cosa? della qualità grafica ma cosa te le frega? mi frega invece perché altrimenti non funziona era già vai a posto così 120 variabile no variabile non era così era variabile era variabile me lo ricordo al 100% 100% 100% Pierpaolo variabile variabile mamma mia siete degli incompetenti no abbiamo Jacopo ragazzi chiamate Serino prima di iniziare no lo chiamiamo quando lo chiamiamo Serino multitasking di Pierpaolo non gli arrivano le informazioni al cervello tu apri apri solo se ci sono io bravo Luric Ale per quanto tempo hai studiato grafica? non ho mai studiato grafica sono un talento in tutte le cose che faccio sono per immacolata concezione io tutto quello che faccio lo faccio bene altrimenti non lo faccio ed è per quello che non faccio una sega allora risentiamo un attimo Serino e poi vediamo sei collegato con il telefono? pure te prima ti sentiva non stavo nel telefono è sempre Serino vedi mi ha detto chiamai fra poco e mi faccio trovare che si sente è più bello avere ragione o fare sesso ti chiede camo avere ragione sesso faccio una sega e vado a letto stai seguendo un regime alimentare ti chiede bel ti vedo più tirato perché ridi? probabilmente perché sto mangiando talmente tanto che ti sei tiratissimo che ti tira la pelle non risponde più Serino ha fatto le sue solite mosse quindi non ci possiamo fare nulla